Non conoscono sosta le porte girevoli di Palazzo Campanella, dove il recente ingresso in Consiglio di Vandaferro, che ha preso il posto di Giuseppe Mangialavori così come stabilito dalle sentenze del Tare della Corte Costituzionale, adesso è la volta di Gianluca Gallo. Il consigliere, ex Udc, è stato il primo dei non eletti alle regionali del 2014 nella lista della Casa delle Libertà al Collegio di Cosenza. Prima di lui Giuseppe Graziano, attualmente segretario quest'ora di minoranza. Gallo fin da subito aveva sostenuto la tesi della ineleggibilità di Giuseppe Graziano, che non avrebbe rispettato i tempi previsti dalla legge per mettersi in aspettativa dal Corpo Forestale dello Stato, dove prestava servizio con la carica di comandante prima di candidarsi. Un adempimento necessario per evitare che il voto possa essere influenzato da chi si candida esercitando poteri pubblici. Tesi sulla quale Gallo aveva ottenuto già una sentenza favorevole, in primo grado, dopo il ricorso presentato al Tribunale di Catanzaro. In serie di appello i giudici hanno sollevato una questione di costituzionalità sulla norma che adesso la consulta ha respinto. A questo punto la Corte d'Appello dovrebbe prendere atto della nuova pronuncia e più o meno seguendo lo stesso percorso di Vandaferro, Gallo dovrebbe entrare in consiglio regionale. La soddisfazione del consigliere è stata già espressa via Facebook. Sapete che c'è, ha scritto Gallo in un post, avevamo ragione. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che non eravamo dei folli quando nei tribunali e non nelle piazze virtuali chiedevamo l'applicazione della legge. Riccardo Tripepi per la CNews24.